Probabilmente pensava che nessuno avrebbe mai sospettato di lui a causa delle sue condizioni fisiche, così si aggirava sulla sua sedia a rotelle per i giardini della città di Arezzo, avvicinando tossicodipendenti ai quali vendeva cocaina ed eroina, ma è stato fermato ed arrestato dai carabinieri. In manette è così finito un 44enne di origini tunisine pluri-pregiudicato. L'uomo, con una grave disabilità costretta a muoversi su una sedia a rotelle, era infatti già conosciuto ai militari per i suoi precedenti, sempre per spaccio di droga. Era stato notato a girarsi con fare sospetto nel giardino del Porcinai. Il pusher era stato infatti avvicinato più volte da alcuni tossicodipendenti. Ieri, alla vista dei militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Arezzo, il 44enne ha iniziato ad agitarsi, per cui è stato fermato e portato in caserma per un controllo più approfondito. Nel corso della perquisizione personale, per la quale è stato richiesto anche il supporto del personale sanitario, sono state ritrovate 45 dosi di cocaina ed eroina pronte per la vendita, in tutto 10 grammi di sostanza stupefacente che il pusher aveva nascosto all'interno di un unico involucro occultato nelle parti intime. Per l'uomo è così scattato l'arresto per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti e su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato portato in carcere.